di agricoltura che sono implicata che hanno conosciuto famiglia, hanno cercato se entro in problema genoasta, se li aggiunto, se puoi si jugando, l'hanno suggerato, mi stai produsso le noi, c'è un esempio sparanghella, c'è un po' che faccia, si faccia la noia, la nord della noia italia, radicchio rosso trebisano, c'è un lavoro non merce, come accenderemo in c'è, c'è 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 iphone, c'è apple, io credo che da due o tre anni voi conoscete c'è apple, non credo, credo che sceglie voi, se potete schimbare in agricoltura, dara, ammettizzo, le roghe formose, ammettizzo che trebbe fie cara data che avete in faccia un responsabile, accolo è Oleg Brega che mi riprende, granza Daniele Vorbeste, tu hai un nome, è il responsabile da ciò che faccio, ha i cia, in Moldova, da due o tre anni, io mi ha incertato con molti in situazione in care non riuscesco, sapobesco, io dovrei sapobesco più molto, dai un esempio, un po' che è con noi, che mi si pare che sia un po' che polemiche, il primario, io non ho ammettito a dare noi e ste cosa che noi, andare un cam si va non della mcdonald d'esempio per la la unica noi este io mi hanno detto che come è la noi in italia siamo entrati la benetton, la lombarda, l'amabili hanno discutato, ieri sono ingaggiati a apprezzare come credere da che vorremmo, c'è una iniziativa, iniziativa era pur semplice fai in loco di un pannone benetton, che ne lo veste, fai un po' di noi artistico, vediamo, aici potete fare arte plastica facciamo ciò che rimane un'opera artistica, che dopo in vitore attraggiasci il turismo rimaniamo insumiti, ci sono quelli che vengono in vitore, tutti fanno benetton, stefane eccetera fanno pubblicità, sicuro che fanno in primaria con il progetto che c'è ai platiti che non costano molti, e or come tu ti fai già pannori pubblicitari, hai risolvato un problema, hai fatto che c'è va dentro, è un servizio pubblico, come si spune, dentro curazioni, dentro gestazioni, hai castigato, hai fatto pubblicità, ma è buona, che mi impuni, me lo vesti, facessi pannori, tot, ma è mare, hai fatto un servizio buono, si dupo, desigur, casci la noi, sigur si intempla a sciaiccia, perché a scia sono leggi di economia, si è discarica di rua, c'eri, dopo vedi che è a scia, probabile si è discarica di intassale, e ne hai dato un servizio, perché non si è insaleggia, dice, trebbe che aspettiamo 2500, perché avemmo un costo con noi, lungo bulevar, che dopo bulevar, c'è una carta di visita, mi se pare, no, Stefano Cialmare, no, dentro Chisinau, no, uno viene, vede, ammordato, la gente c'era un altro tempo, la Napoli, anche la gente c'era Chisinau, era un orale, no, no, a mentite, di noi, mi sembra che cauta sia credata la persona rispettiva, non un partito o un gruppo, con un gruppo, come mi sta intemplare la mia, scusa, non vi superate, dai tipico, io ho i tre vicini, in tre nostri oceani, oggi avete sping16, viene dovremmo, non vi superate, se face in termini psicologici se spune hait, ha detto che aveva un inizio, uno c'era l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, vi viene spontanea, in potriva italiana, in potriva strani. Noi, io vengo inartato, nulla vuoi, e a questa tendenza viene, dovremmo, dentro il culo, dar a noi trebbiamo scappando in asta, perché, adicare, io sì che, vorremmo mai pozzino di partito, di gruppo, di team, e vorremmo mai molte persone rispettive, trebbiamo che viene a fare la persona responsabile, da che noi non risolvamo nemiche dei nemiche. A propos di agricoltura, sì, ora c'è altro problema, io mi implico mai molto di problemi sociali, darci agricoltura, io dico che vittoria di Moldova è agricoltura, uno che si gandesta viene di Nafara, un extraterrestre che viene in Moldova, è seguita, si dice, agricoltura, agricoltura, un extraterrestre, mi immagino, non si dice, non chiginao, com' tanto rispetto, a mia sincera non mi piace, ve lo spune, claro, sinplo, pregalagia, pre, a propos dei, e noi non ho mai, non ho mai ruotiere, così, ceva, e persone che sono, clax, dicendo non si ha menziodata, ci ha nezzoggiato, non credo, non mi spero, non mi sembra, non ce la vuoi, non mi sembra, nezzoggiato, no? in Europa, non interessa l'Europa, non credo se entro con polemica, lega va male, come se non è Europa, cioè in altri Stari, voi disoltate, l'uomo è sempre, io stavo, non è mai bene, non è mai benestita, da che non c'è nessuno, eh, cerchiamo, c'è, che siamo indietro, ci ne esageriamo un pico, ci ne sono la fette, ci ne è nervoso, ci facciamo l'anno, o sotto a ice, o sotto a isp, o sotto al collo, diciamo, se calmi asa, io credo, in lo che è uno stico l'alto, mi sembra che si è esagerata, un'esempio si è esagerata con Menda, io ho un vasutto, mi sento, mi sono impalata, come spuni dopo vinte in plus, non si è offentata, ma sono molto donne, femmelle, scolta i telefoni, sono la polizia, non basta, mi se pare che è una polizia percosa. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS